Musica Ben ritrovati nella cucina di Siamo Donne per preparare assieme un piatto molto gustoso di fave e cicoria. Ci servono delle fave secche che vanno messe a bagno la sera prima e dell'erba amara che può essere o cicoria, radicchio selvatico, radicchio di campo, vedete voi quello che preferite, una patata, olio, sale e pepe. Metto in una pentola la patata tagliata a tocchetti le fave ammollate e copro il tutto con acqua fredda. L'acqua sovrasta di un paio di dita la patata e le fave, si sala solo alla fine. Cuoccio la cicoria in acqua bollente salata. Dopo circa 10-15 minuti le cicorie sono pronte, le possiamo scolare. Le fave sono cotte, le aggiusto di sale, dopodiché le posso frullare. Impiattiamo adesso un po' di cicoria. 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 Impiattiamo adesso un po' di cicoria.